Signor Mortara, suo figlio Edigardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Mi taglierò la mia testa, papà. Non ti faranno niente. È Gesù crocifisso, il figlio di Dio. Ma dorme? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio, Edigardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso. Quando dobbiamo restare qui? Tocca a farsi furbi. Se studie, non a casa prima. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Orpus Domini Nostri, Jesu Christi. Lo riempiono le bugie. Amen. Non ho scritto ovunque. Pare che anche Napolano III non abbia gradito. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma non è un figlio. Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Salve Regina, mater misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Viva Bologna liberata! Viva Bologna liberata! Vostro figlio è cristiano in eterno. Viva Bologna liberata!